Perché affidarti a un personal trainer? Quanto conta questa figura professionale per il raggiungimento dei tuoi obiettivi? E concretamente, in che modo puoi aiutarti? Ciao, sono Fabio e sono un personal trainer. Lavoro e vivo a Catania. Alleno uomini e donne che vogliono tornare in forma e hanno poco tempo disponibile, incontrandoli due volte alla settimana per un'ora. La risposta a tutte le domande e la soluzione a queste difficoltà è una sola. Affidati ad un personal trainer. Non sei ancora convinto di averne bisogno? In questo video ti dirò tre ragioni fondamentali per cui devi scegliere il servizio di un personal trainer se vuoi tornare in forma. Ragione numero uno. Non puoi pensare che scrivendoti in palestra l'istruttore di sala potrà rimanere sempre al tuo fianco, spiegandoti la corretta esecuzione degli esercizi, correggendo la tua respirazione, la tua postura, tenendo in considerazione eventuali patologie e prescrivendoti un allenamento personalizzato. Questo tipo di allenamento assistito e personalizzato non è compito dell'istruttore di sala, ma di un personal trainer competente e professionale, a cui devi richiedere il servizio almeno nella fase d'avvio della tua attività sportiva. La seconda ragione è che l'allenamento con il personal trainer è l'unico allenamento personalizzato, perché il personal trainer ti conosce. L'attività di un personal trainer comincia dalla fase preliminare di conoscenza della persona che è di fronte. Prima di programmare un piano di allenamento, un bravo personal trainer rileverà i diametri corporei e effettuerà il calcolo della composizione corporea. Attraverso una lunga chiacchierata comprenderà quali sono le tue abitudini alimentari, il tuo passato sportivo ed eventuali patologie con cui fare i conti. Ragione numero 3. Con il personal trainer ti alleni in sicurezza. Compito prezioso di un personal trainer, soprattutto nella fase d'avvio, è quello di valutare la tua corretta postura durante l'esecuzione degli esercizi fondamentali. La corretta respirazione, il sapiente utilizzo delle macchine, dei manubri, dei bilancieri, la giusta scelta dei carichi e l'eventuale stretching finale. Il personal trainer è il tuo compagno di viaggio. Ti impedirà di annoiarti, ti motiverà nel percorrere la strada giusta, ti indicherà il percorso più sicuro per giungere a destinazione. Se vivi o lavori a Catania, contattami e prenota un incontro conoscitivo, gratuito e senza impegno alcuno. Ciao, a presto!